Abbiamo visto che questa povera sfortunata non sa niente di se stessa. Dovrò trovare la chiave del suo cervello, entrare nella sua mente, portatela qui. Bona credita, bona credita, sì. Ti prendo, ti prendo in parola, chiamami soltanto l'unico e io sarò banpezzato. Ti prendo più informazioni sull'interno o sul nostro sito. Buona serata! Buongiorno, grazie.